Chi o cosa muove Gesù? E questa è la domanda che i nemici e anche i familiari di Gesù si fanno guardando la predicazione, le opere, i gesti, i miracoli che Gesù coppie. E questa domanda è rivolta anche a noi, per comprendere che solo se riconosciamo la presenza di Dio in Gesù, sappiamo comprendere che Gesù può davvero essere il volto di Dio presente nella storia. Dal Vangelo secondo Marco Gesù entrò in una casa e di nuovo si radonò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti, è fuori di sé. Gesù non viene capito e i suoi, la sua famiglia, vorrebbero fermarlo, portarlo via. Il motivo è legato al fatto che non abbia il tempo di mangiare. Coloro che lo hanno nutrito quando era piccolo, ora si preoccupano per lui. Ma non capiscono cosa stia facendo e pensano che sia impazzito. Vorrebbero riportare Gesù ad una vita tranquilla e omologata. Questo è anche il destino di ogni cristiano che desidera rivivere in pienezza il Vangelo. Il non essere capiti e il doversi scontrare con chi non accetta le sue scelte controcorrente. Una vita che compie percorsi, che passano per sentieri poco battuti, ma che portano a Dio per mezzo di Cristo. Gli iscrivi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano «Costui è posseduto da Belzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni». Se prima la minaccia veniva dai parenti, ora l'incomprensione viene dalle autorità. Uscire dai canoni è sempre stata occasione di scandalo per chi detiene il potere. Se per i parenti l'accusa è che Gesù sia pazzo, per gli iscrivi l'accusa è quella di essere indemoniato. Si vuole qui mettere in dubbio la bontà dei gesti fatti da Gesù. Azioni che avvenivano ai margini delle autorità religiose del tempo e senza la loro approvazione. Ma egli li chiamò e comparabile diceva loro «Come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in sé stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in sé stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Gesù non permette a questi di parlare di lui senza la sua presenza. Egli mostra la loro contraddizione nel dire che il male non può agire contro se stesso. E se per mezzo di lui avvengono esorcismi, è perché Dio gli dà il potere di farlo. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega. Con questa immagine, Gesù vuole rispondere alla domanda che sia i parenti sia le autorità hanno. Da chi o cosa è guidato Gesù? Chi gli dà la forza per compiere ciò che fa? Per i primi a guidare Gesù ci sarebbe la pazzia, per i secondi il diavolo. E questa è una domanda fondamentale anche per noi, se vogliamo comprendere e prendere seriamente il Vangelo, senza fare uno spezzatino delle parole di Gesù, prendendone solo alcune e altre no. Gesù, in più di un'occasione, afferma di essere figlio di Dio, il Messia, il volto di Dio Padre. O riteniamo che queste affermazioni siano vere, o dobbiamo ritenere che Gesù sia un pazzo o un demoniato. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno. Ereo di colpa eterna, poiché, dicevano, è posseduto da uno spirito impuro. Il peccato più grave è proprio quello di chi non riconosce che Gesù sia guidato dallo Spirito Santo. Negare lo Spirito significa credere che se Dio esiste non abbia voluto rivelarsi. Invece lo Spirito Santo in Gesù ci rivela che Dio ci ama e ci perdona. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero, Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. Dopo essere stati annunciati all'inizio del brano, ora i parenti arrivano e vogliono portare via Gesù. Vorrebbero far tornare Gesù nel clan familiare e così tornare ad averlo con sé. E questa è la tentazione di voler omologare all'interno della società ciò che per sua natura non è omologabile. Per quanto lo si voglia fare, il Vangelo non è addomesticabile. Il vivere l'amore di Gesù e per Gesù ci pone sempre in una zona di confine, dentro la legge, ma al di sopra di ogni legge. Ma egli rispose loro, Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui disse, Questa frase ha un valore dirompente, perché va contro la cultura che pone nella famiglia il suo centro. Gesù fa saltare ogni legame di sangue, per ricrearne di nuovi ma ad un altro livello. Diventare noi, fratelli, sorelle, madri di Gesù, significa seguire la volontà di Dio Padre, nella logica di una nuova famiglia che ha nell'obbedienza al Vangelo la sua unica legge. Grazie.